Ancora un momento che pone al centro il pipe di Matera nella sua visione futura, soprattutto rispetto a quelle che devono essere le opportunità da intercettare. Si parla tanto di messa a valore di strategie energetiche, di crescita appunto di un sistema produttivo che insiste in quell'area. A distanza di un anno torniamo a parlare di questo luogo. A che punto siamo e cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Ha detto un po' della discussione che ha animato il dibattito cittadino in questi ultimi mesi rispetto al fatto che il pianificatore ha inserito il pipe 1 all'interno del tessuto urbano. Sostanzialmente ha detto a chiare lettere che il pipe ha esaurito la sua funzione produttiva. Personalmente rispetto a queste impostazioni non sono d'accordo, però torno a ripetere, questo sarà solo uno degli aspetti che verrà toccato stasera. A noi interessa stasera dibattere un po' di quello che è il futuro del pipe, soprattutto inserito nel nuovo contesto geopolitico mondiale. Quindi noi sappiamo che siamo nel pieno di una pandemia energetica e quindi la nostra proposta è quella di trasformare il pipe, farlo diventare un lab energetico della città di Matera. Come? Inserendo buona parte e tutti gli imprenditori che lo vorranno, vorranno aderire a questo progetto sono i benvenuti, creando una comunità energetica cittadina. Quindi da un lato ci sono gli imprenditori che hanno le proprie attività nel pipe, che diventano produttori e consumatori di energia, ma non consumano tutta l'energia che producono, mettono dell'energia a disposizione di altri imprenditori che, ubicati per esempio nel cuore della città, penso ai tanti alberghi e ristoranti nei Sassi, attività che non potrebbero mai dotarsi di un proprio impianto di autoproduzione di energia. Il concetto che vogliamo, come dire, trasferire è proprio quello della comunità energetica, allargandola nel caso, anche perché la normativa vigente lo prevede, anche a famiglie di consumatori. Quindi questa è solo una, diciamo, delle proposte. L'altra proposta richiama un po' un'attività che come CNA abbiamo svolto qualche giorno fa, proprio in questa stessa sede, che è quella, come dire, delle pareti verticali, ovvero il verde come risposta alla riduzione di CO2. Quindi noi già l'anno scorso avevamo lanciato l'idea, per esempio, del bosco verticale all'interno del pipe, un albero per ogni azienda all'interno del pipe. Questi sono solo due concetti, diciamo, molto semplici, in linea con quello che il mondo oggi ci richiede. Stiamo andando verso, come dire, un mondo più sostenibile, più green e noi riteniamo che gli imprenditori devono svolgere appieno questo ruolo inserendosi in un processo di sviluppo sociale e condiviso. E quindi, chiudo dicendo che penso ai tanti imprenditori che a cavallo tra gli anni 70 e 80 sono stati i pionieri dello sviluppo cittadino, oggi quegli stessi imprenditori o i loro eredi hanno la possibilità di essere nuovamente protagonisti per contrastare questa pandemia energetica che rischia di causare chiusure per centinaia di imprese e perdite di migliaia di posti di lavoro. Un insieme di opportunità abbiamo sentito che devono essere messe a sistema e che trovano riscontro anche nell'azione che l'associazione Zona Franca Matera porta avanti con impegno per intercettarle al meglio e offrirle ai tanti imprenditori del posto. Zona Franca in maniera trasversale ha gestito e ha portato avanti un'attività di servizio al servizio delle imprese del territorio e quindi che coincide poi con la zona pipe essenzialmente. Nello specifico c'è stata un'analisi di uno studio di fattibilità che è legato anche alle nuove figure professionali che sono necessarie per poter avviare e rafforzare il tessuto produttivo esistente e diversificarlo anche. E quindi questo diventa la base per avviare un'iniziativa importante che ha lanciato il CNA, quella della Scuola di Arti e Mestieri e poi di rendere anche fruibile finalmente quello che è il centro di formazione regionale realizzato dalla Regione che è il momento che possa partire e che possa essere messo al servizio del territorio. Si parla di opportunità per questa zona del pipe, delle comunità energetiche e quindi della opportunità anche di cogliere le sfide del presente. Confapi Matera sostiene questo processo di messa a valore di una zona importante per tanti imprenditori? Assolutamente sì perché il pipe è il cuore pulsante di Matera da sempre. La storia imprenditoriale di tantissime bellissime storie imprenditoriali che oggi hanno realizzato anche impianti altrove nella zona industriale della Martella ma sono partiti tutti dal pipe e questa è l'attenzione che assolutamente dobbiamo avere come associazione perché è importante che questa zona venga di nuovo ripensata, venga immaginata con nuove funzioni e venga sostenuta in un processo di miglioramento e di qualificazione delle imprese che sono presenti. Le criticità sono enormi, ne segnalo solo tre, a partire dai parcheggi per gli operai che lavorano. Occupati tutti i parcheggi, le strade sono molto strette, la maggior parte sono strette, ce n'è solo uno, parlo del pipe 1, che il pipe 2 è un'altra storia, è un'altra storia. I camion non possono scaricare, con i tir che arrivano e tutto quanto bloccano il lavoro alle persone e voi sapete benissimo che il costo minuto è elevato in questo momento e non ci possiamo permettere il lusso di perdere tempo, insomma. Se no chi ce li paga questi minuti, delle volte sono ore, perché se uno aspetta che scaricasse il camion per raggiungere i posti di lavoro, vuol dire che se ne va un'ora, insomma. E un altro problema molto importante è l'assenza dei vigili urbani, nonostante abbiamo segnalato più volte la mancanza dei vigili e tutto quanto. Da qualche tempo stiamo vedendo un po' di pulizia che si fa un buco, ogni tanto si fa la pulizia. La segnaletica è vecchia e non è leggibile, addirittura non si legge nemmeno il divieto di accesso e tutto quanto. C'è l'unico problema che non si può lavorare più là. C'è l'unico problema che non si può lavorare più là.